Britney Spears Britney Spears, arriva l'elenco delle sue spese stravaganti Britney apre il portafoglio e la sua casa si riempie di strane cose e strani oggetti. . Pensiamo che solo nel 2016 Britney Spears ha sostenuto spese per circa 10 milioni di dollari, e passiamo in rassegna alle piccole, grandi stravaganze che animano le giornate della pop star. . Britney Spears, un 2016 di spese pazzi. Britney ha lavorato sodo per ricostruire la sua carriera, in seguito al celebre tracollo nervoso che l'aveva vista come rassata protagonista della cronaca di qualche anno fa. . . Dallora, la pop star ha costruito un rapporto bellissimo con i suoi figli e ha ripreso a cantare, portando avanti la sua carriera di successo e ricordandoci perché l'avevamo accolta con entusiasmo nelle nostre playlist. . . Tra le molte terapie a cui si sottopone, a quanto pare, c'è anche quella dello shopping estremo. Di recente i suoi conti privati sono emersi nel corso di uno dei suoi contenziosi legali, e hanno rivelato alcune delle sue spese più stravaganti. . . Nel 2016, la pop star ha guadagnato circa 16 milioni di dollari e ne ha spesi quasi 11. . . Secondo il TMZ, che ha messo le mani sui documenti, Britney avrebbe un debole per i massaggi e i vestiti firmati, che costituiscono gran parte delle sue spese annuali. . Sembra infatti che Britney non possa resistere a un buon massaggio, e solo l'anno scorso abbia lasciato circa 123 mila dollari al suo massaggiatore. . Complici di questo piccolo salasso ci sono, senza dubbio, le sedute estreme di allenamento a cui la pop star si sottopone per preservare, perfetto, il suo corpo da icona della musica pop. . . A questo ammontare si aggiungono anche tutte le spese per manicure e trattamenti di bellezza. Britney Spears, cani e guardaroba da pazzi. . Per il suo guardaroba personale, Britney Spears ha speso circa 70 mila dollari solo nel 2016. Per capelli e trucchi, invece, il totale è di circa 24 mila dollari. . D'altro canto, anche i suoi animali sono in ottime mani, Britney per loro ha speso circa 30 mila dollari. Tutto sommato, però, per Britney il 2016 è stato un anno di grandi miglioramenti. . . . . . . . . .